dunque allora io ho detto avvia registrazione ho cliccato ecco ora è iniziata la registrazione allora mi scuso per aver iniziato dopo i primi lucidi quindi ripeto semplicemente quello che ho detto nel contenuto dei primi lucidi insomma proprio in velocità scusatemi per la distrazione allora torniamo la prossima volta mi raccomando ricordatemelo voi perché io sono distratto allora in questa lezione quello di cui parlerò sono i concetti di funzione gruppo azioni di gruppi topologie e metriche e ho ricordato brevemente che cos'è una funzione una legge che associa ogni elemento di un insieme A in modo preciso un elemento dell'insieme B e ho ricordato quali sono le proprietà di iniettività e di suriettività per cui una funzione iniettiva se soltanto se ogni elemento di B ammette almeno una si dice contro immagine cioè per ogni elemento di B esiste scusate tutta la rovescia iniettiva se esiste al più una retro immagine per ogni elemento di B e suriettiva se esiste al più una retro immagine per ogni elemento di B quando le due cose sono vere insieme parliamo di funzioni B univoche e se la funzione che stiamo considerando è B univoca possiamo parlare anche della funzione inversa se la funzione F è la funzione F alla meno 1 che va in direzione opposta da B in A ed è così definita F alla meno 1 su Y vale X se soltanto se F di X è uguale a Y e basta invertire la direzione delle frecce per definire F alla meno 1 ho fatto due esempi di funzioni da R in R la funzione seno una funzione quadratica e la sua opposta e poi ho detto che noi parleremo di dati i dati in quanto unità individuali di informazione non intesi in senso di quantità di bit utilizzati nel senso della teoria di informazione ma in senso generico un dato descrive la singola qualità o quantità di qualche oggetto o fenomeno ho detto che ci sono molti casi in cui i dati sono rappresentati da funzioni ho fatto vedere un primo caso che riguarda le immagini a livelli di grigio che possono essere nel caso di stretto delle matrici in cui celle contengono numeri interi fra 0 e 255 oppure possono essere immagini definite su tutto il piano reale o su rettangoli inclusi nel piano reale o altri particolari insiemi e i livelli di grigio sono espressi appunto da questi valori fra 0 e 255, 0 il nero, 255 il bianco se passiamo da matrici a valori in 0 e 255 e matrici a valori in triple di numeri fra 0 e 255 interi stiamo parlando di immagini a colori poi ho detto che un elettrocardiogramma è un altro esempio di dato rappresentato da una funzione funzione da R in R ho detto che una topografia assiale compitalizzata è un altro esempio di funzione perché associa a ogni punto di un'elica le densità, non le densità, le quantità di massa incontrate dal raggio, dal fascio di raggi X emessi da quel punto, dall'intorno di quel punto e quindi una funzione dall'elica ai reali oppure dai reali ai reali visto che l'elica è in corrispondenza bionivoca con i numeri reali e poi ho detto anche che quando si fa uno scanning di una superficie quello che si fa molte volte è prendere una funzione da S2 in R che rappresenta per ogni punto della superficie la distanza di quel punto dall'oggetto che viene considerato bene, un altro esempio di funzione che viene, naturalmente sto scegliendo fra infiniti esempi che si potrebbero fare alcuni esempi significativi un altro esempio che si può fare per far vedere l'utilità delle funzioni nel rappresentare i dati è la distribuzione della temperatura per esempio sulla Terra noi prendiamo il 4 febbraio del 2021 e il 4 febbraio del 2020 sto inventando le date perché non mi ricordo quando ho preso questa figura a quali date si riferiva e possiamo confrontare appunto la distribuzione delle temperature espresse mediante colori secondo questa scala sulla Terra a queste due date data 1, data 2, diciamo ieri e oggi queste sono funzioni che vanno da S2, la superficie della Terra, in R chiaramente potremmo mettere qualcosa di meno di R perché non è che possiamo mettere temperature arbitrariamente grandi né arbitrariamente negative quindi però sono sempre funzioni che vanno da S2 in R e questa è un'altra rappresentazione allora nel nostro modello i dati sono sempre descritti da funzioni a valori reali o vettoriali non sto dicendo che i dati sono soltanto questi perché si può emettere in un processo anche un dato per esempio espresso da un grafo per dire io non so se sapete che cos'è un grafo se non lo sapete ve lo dico io anche se non ci servirà in questo ciclo di lezioni almeno non servirà nel mio modulo un grafo è una collezione di vertici legati da quelli che si chiamano degli edge cioè degli archi che connettono alcuni vertici potrei avere i vertici A, B, C, D, E e decidere che A lo collego con E D lo collego con C e con E e poi C lo collego anche con E e B non lo collego con niente questo è un grafo una collezione di vertici con degli archi che connettono questi vertici molto spesso talvolta i dati sono espressi in questo modo è chiaro che se io mi metto qui e faccio un disegno è più simile a un grafo che è una funzione anche se a dire il vero anche questo oggetto lo posso rappresentare come una funzione perché per esempio posso prendere la funzione che associa ogni punto del piano 0 se da lì non è passata la mia penna e 1 se da lì è passata la mia penna quindi anche in quel caso riesco a rappresentare l'informazione mediante una funzione però si potrebbe dire che qualcuno potrebbe dire no io preferisco rappresentarla in un altro modo preferisco dire che ho questi vertici e poi ho degli archi che sono appunto questo arco che va da un punto a se stesso questo arco questo si chiama un grafo e ho tutto il diritto di considerare i dati che mi interessano e si potrebbe anche andare oltre ma ora questo non voglio farlo ecco però in molti casi le funzioni sono adeguate a rappresentare i dati ora indichiamo con fili insieme dei dati ammissibili cioè delle funzioni che possono essere interpretate come segnali da elaborare io spero che conosciate questo simbolo FI questo simbolo FI rappresenta tutte le funzioni che per noi sono segnali accettabili non tutto quello che si può pensare è accettabile perché per esempio se io andassi a prendere mettiamo che sia un medico e supponiamo che mi interessi di come dicevo elettrocardiogrammi è chiaro che ho tutto il diritto di dire che questa cosa qua questa cosa qua per me non è accettabile come elettrocardiogramma perché va troppo in alto e non ha delle oscillazioni caratteristiche degli elettrocardiogrammi quindi non è un segnale nel nostro studio non è un segnale accettabile esattamente come non lo so se parliamo di alfabeto questo è un segnale accettabile questo è un segnale accettabile probabilmente questo non è un segnale accettabile perlomeno in lingua italiana quindi noi dobbiamo scegliere per fare questo gioco se vogliamo chiamarlo così un insieme di segnali che sono accettabili e lo indichiamo con questo simbolo phi che vedrete ricorrere e nel nostro modello i segnali di phi vengono chiamati segnali ammissibili e sono l'unica porta di accesso alla realtà cioè quello che si sottintende in questo modello è che quando l'osservatore guarda quello che sta succedendo nell'ambiente può soltanto fare delle misurazioni non sto dicendo che non c'è un modo diverso per concepire la realtà sto dicendo che in questo modello si parte da questa assunzione quindi se io guardo la realtà con un cannocchiale e ho soltanto quello non potrò parlare di temperatura perché non ho niente per misurarla la temperatura non saprò in linea di principio neppure che esiste se dico in realtà esiste anche la temperatura sto in realtà accedendo o ipotizzando di accedere a un altro strumento che mi fornisce la temperatura parlare di segnali che non sono misurabili è un po' un controsenso almeno potenzialmente si deve poter immaginare di misurarli anche se noi in effetti non sappiamo farlo altrimenti non costituiscono di per sé dati ora un'osservazione abbastanza banale è la seguente i dati di per sé non hanno significato anche qui non voglio imporre un giudizio al di là insomma della matematica dico che in ambito diciamo fatemi dire di matematica applicata parlare di dati che non si possono misurare non ha senso ma non ha senso neppure parlare di significato di dati se non c'è un osservatore che li elabora li trasforma in altri dati e per esempio trasformandoli dice è un gatto e ho deciso di rappresentare questo con questa vignetta nel senso che ciò che è è ciò che l'osservatore ci dice che è attraverso il suo giudizio chiaramente questo non vuol dire che l'interpretazione dell'osservatore sia l'unica plausibile ci possono essere altri osservatori che guardano la scena da un altro punto di vista e hanno una interpretazione completamente diversa della scena ma si tratta appunto di un altro osservatore per noi come abbiamo detto un osservatore sarà sempre un agente cioè una macchina un'entità un apparato umano o non umano che trasforma dati in altri dati una cosa che vi ho già detto e che ripeto perché è molto importante è che in realtà non siamo quasi mai interessati ai dati ma alla relazione che c'è fra i dati e l'osservatore cioè quello che noi facciamo in realtà è interessarci alla coppia dati osservatore e qui c'è l'esempio di cui vi parlavo se c'è appunto una lesione sulla pelle il maggiore interesse per il paziente non è questa immagine qui e la funzione i tre canali che rappresentano le tre funzioni verde rosso blu ma è il giudizio che l'osservatore in questo caso potrebbe essere il medico dà di questa lesione e naturalmente questo è una cosa soggettiva cioè uno può dire ma no l'osservatore io questo non lo voglio l'osservatore sono io e giudico io certo lo puoi fare in questo caso sei tu l'osservatore ma non è che l'osservatore è assente c'è ha un'altra identità naturalmente questo gioco si può moltiplicare perché quando uno ha la coppia di O può immaginare uno interpretare questa coppia come i dati e aggiungere un altro osservatore di più alto livello che guarda la coppia praticamente siamo noi in questo momento che stiamo partecipando a questa lezione che guardiamo questa paziente e il medico dall'esterno siamo osservatori dell'osservatore e in questo gioco si può andare avanti in infiniti gradi di complessità però l'osservatore ci vuole ora dove entra la geometria in tutto questo entra quando si riconosce che alcune trasformazioni sono irrilevanti per l'osservatore supponiamo infatti di guardare questa cellula va bene è chiaro che io posso usare un microscopio posso ruotare il microscopio dal punto di vista biologico posso ipotizzare che queste due immagini siano del tutto equivalenti se ruoto la posizione del mio occhio nel guardare la cellula non è che cambia l'analisi della cellula in questo caso direi no allora come possiamo formalizzare matematicamente questo fatto per farlo ci occorre il concetto di gruppo cos'è un gruppo un gruppo è un insieme G con un'operazione che qui ho indicato col simbolo stella che è prima di tutto associativa cioè quando voi prendete tre elementi del gruppo x y e z se fate prima la combinazione attraverso l'operazione stella di x e di y e poi il risultato lo combinate con z ottenete lo stesso risultato che otterreste combinando prima y con z e poi calcolando la combinazione di x con il risultato appena ottenuto voi sapete bene che questo è quello che succede per esempio quando si prendono gli interi con l'operazione di somma no? voi sapete che a più b più c è sempre uguale a scusate ad a più b più c vale la proprietà associativa poi un'altra cosa importante è che l'operazione stella deve essere dotata di unità ci deve essere un elemento che è composto a destra o a sinistra di qualunque altro elemento lo mantiene inalterato nel caso degli interi questo elemento è lo zero se voi sommate se l'operazione stella è la somma vi sommate x con 0 o 0 con x ottenete sempre x quindi gli interi con l'operazione somma hanno un'unità inoltre ogni elemento di g ammette un inverso cioè un elemento che composto a destra o a sinistra da come risultato l'unità di cui avevamo parlato precedentemente negli interi quello che succede è che se io prendo meno 3 il suo inverso è 3 perché meno 3 sommato a 3 sommando a meno 3 3 a destra o a sinistra si ottiene sempre 0 l'unità del gruppo quindi abbiamo che z più è un esempio di gruppo se poi l'operazione commuta nel senso comporre x con y o y con x da sempre lo stesso risultato diciamo che abbiamo un gruppo commutativo allora ci sono più esempi più interessanti degli interi con la somma o reali con la somma o irrazionali con la somma o i reali positivi con il prodotto allora io per parlare di gruppi ho deciso di parlare di fare degli esempi con i gruppi finiti avete visto un esempio infinito sono gli interi con la somma ma possiamo prendere anche gruppi finiti e qui per parlare di gruppi finiti ho preso queste tre tavole moltiplicative cosa intendo intendo che la prima tavola si riferisce all'insieme i cui elementi sono quattro lettere la lettera U la lettera A la lettera B la lettera C e l'operazione è l'operazione rombo guardando l'intersezione della riga corrispondente a un elemento e la colonna corrispondente all'altro trovate il risultato dell'operazione fra quei due elementi nell'ordine in cui li ho detti per esempio se io voglio A rombo B vado a cercare sulla riga di A sulla colonna di B trovo C questo fa C va bene allora è quello che potreste verificare ma io non lo faccio ora è che questa tabella corrisponde effettivamente a un gruppo definisce un gruppo dovreste per verificarlo verificare che effettivamente vale l'associatività esiste l'elemento neutro e quale sarà l'elemento neutro beh ovviamente un po' per la forza del segno non avrei sennò usato il simbolo un po' perché lo si vede che lasciano alterati gli altri elementi attraverso l'operazione rombo è proprio U l'elemento neutro ok guardate però la seconda tabella questa questa qui qui c'è un'altra operazione l'operazione asterisco e gli elementi non sono più U 1 2 3 in questa tabella vedete un'altra regola appunto di composizione e questa regola è quella che viene insomma questo è l'insieme quello che viene normalmente chiamato Z4 la regola di composizione è semplicemente questa volete la composizione di un elemento con un altro fate la somma ordinaria fra gli interi e poi sottraete molti più di 4 finché il risultato non rientra nell'insieme 0,1,2,3 in effetti se voi fate per esempio 2 composto 3 tra gli interi il risultato è 2 più 3 5 ma togliete 4 riportate il valore nell'insieme 0,1,2,3 ottenete 1 e questo è proprio il risultato che ci aspettavamo se invece fate che so andate a considerare 3 più 3 3 più 3 il risultato sarebbe 6 ma togliete 4 viene 2 quindi 3 più 3 fa 2 bene questo è un altro gruppo anche questo potrebbe essere verificato c'è poi un altro esempio che è questo qui va bene e notate che è fortemente simile a questo ma diverso nelle scelle gialle le scelle gialle il 2 è invertito con lo 0 ok si può dimostrare che anche questo è un gruppo ora se noi guardiamo questi tre gruppi diciamo sono tre gruppi diversi perché le tabelle che permettono di fare le moltiplicazioni sono fra loro diverse e in un caso abbiamo anche proprio elementi diversi allora c'è un concetto che è utile il concetto di omomorfismo fra gruppi cosa vuol dire che due gruppi sono omomorfi in questo caso il gruppo G con l'operazione stella e il gruppo H con l'operazione diciamo circoletto allora sono omomorfi se esiste una funzione F che va a scusate questo è un errore mio non da B ma da G ad H va bene che ha questa proprietà se voi fate l'immagine della composizione dei due elementi ottenete la composizione delle immagini notate quello che succede qui qui faccio prima la composizione attraverso la stella e poi calcolo l'immagine mediante la funzione T qui invece faccio prima calcolo le immagini e poi dopo faccio la composizione sostanzialmente l'omomorfismo ci dice che si possono scambiare fra loro l'operazione e il calcolo della funzione naturalmente attenzione che l'operazione deve essere fatta dove si può fare cioè dopo dopo che avete applicato la funzione dovete utilizzare l'operazione nel codominio non nel dominio perché non siete più nel dominio siete nel codominio e questa quando c'è una funzione così fatta si dice che T è un omomorfismo che vuol dire avere simile struttura se questa T è bionivoca chiamiamo questo omomorfismo un isomorfismo e in quel caso i gruppi si dicono isomorfi cosa vuol dire un isomorfismo per farvelo capire vi riporto alle prime due immagini alle prime due tabelle allora supponete di considerare la funzione che porta facciamo così prendiamo questo la funzione che porta diciamo la T che porta U in 0 T di U uguale a 0 che porta A in 1 che porta scusate qui vediamo se allora che porta B in 2 e porta C in 3 come va interpretata questa funzione va interpretata come un cambiamento di nomi praticamente questa T è come se dicesse cambia il nome di U chiamalo 0 cambia il nome di A chiamalo 1 cambia il nome di B chiamalo 2 cambia il nome di C chiamalo 3 è chiaro che se cambiamo il nome cioè se noi prendiamo la tabella UABC e facciamo questo cambiamento di nome U diventa 0 questo diventa 1 questo 2 questo 3 0 1 2 3 al posto di U ci mettiamo 0 al posto di A ci mettiamo 1 2 3 poi abbiamo 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2 ed ecco che la prima tabella è diventata la seconda questo è il significato del termine isomorfismo se c'è un modo di cambiare i nomi in modo tale che il primo gruppo diventi il secondo allora si dice che i gruppi sono isomorfi in effetti questi due gruppi sono fra loro isomorfi cioè sono lo stesso gruppo anche se raccontato in modo diverso succede sempre così se si prendono due gruppi viene sempre fuori che sono isomorfi certamente no potrebbe essere per esempio che la cardinalità di due gruppi la cardinalità di due gruppi potrebbe essere diversa e quindi in quel caso non ci sarebbe nessuna corrispondenza viunivoca quindi neppure nessun isomorfismo fra due gruppi ma anche nel caso in cui la cardinalità sia la stessa può darsi che due gruppi non siano isomorfi è quello che succede in questo caso i due gruppi che trovate in seconda e in terza posizione si potrebbe far vedere facilmente che non sono isomorfi non sono isomorfi e perché essenzialmente se volete perderci qualche secondo in più perché il secondo gruppo nel secondo gruppo quello che si vede che è preso qualunque elemento sommato con se stesso dà sempre lo stesso risultato mentre nel secondo gruppo qui non succede questo quindi i due gruppi non sono isomorfi sono strutturalmente diversi naturalmente tutto quello che sto dicendo è un modo per raccontare questa formula la matematica si ferma qui dice semplicemente che vale quest'uguaglianza ma il significato la semantica di quella formula è appunto ciò che dicevo se quella formula vale stiamo e t è bionivoca stiamo parlando dello stesso oggetto con nomi diversi ci sono delle domande su questo giusto perché il secondo è il terzo gruppo è omomorfi giusto il secondo è il terzo gruppo sono fra loro omomorfi il concetto di tra due gruppi c'è sempre un omomorfismo perché io non vorrei andare nei dettagli però se prendete un gruppo G e prendete un gruppo H fra le funzioni che rispettano questa regola e che vanno da G in H c'è quella banale che manda tutti gli elementi di G nell'elemento U di H cioè nell'unità se io prendo per esempio il gruppo degli interi e il gruppo dei razionali sono omomorfi perché posso portare tutti gli interi nel razionale nullo e quello è un omomorfismo l'omomorfismo è un concetto molto debole due gruppi sono sempre fra loro omomorfi quello che è veramente interessante è il concetto di isomorfismo che invece è molto raro isomorfismo vuol dire avere la stessa forma funzionare allo stesso modo noi esseri umani viviamo di isomorfismi no? quando non lo so mi avvicino alla lavagna per fare lezioni in questo momento che sto facendo lezione io ho scritto mi avete visto scrivere questa questo simbolo qui e questo simbolo qui credo che nessuno abbia pensato che fossero oggetti diversi cioè il fatto di aver messo che so su una lavagna un quantitativo di gesso in una certa locazione e un quantitativo di gesso in un'altra locazione tutte e due con la stessa forma di uno non vuol dire che quelli sono due oggetti distinti sono equivalenti e l'equivalenza è un concetto strettamente imparentato con l'isomorfismo quando si parla di gruppi dire che i due gruppi sono equivalenti vuol dire funzionano allo stesso modo il matematico formalizza questo concetto dicendo che esiste una corrispondenza bionivoca che verifica quest'uguaglianza ok? capito grazie ci sono altre domande? allora vado avanti allora supponiamo di essere interessati all'insieme delle immagini a livello di grigio definite sul piano reale quindi insomma quelle che chiamiamo foto in bianco e nero io credo che in presenza di queste due immagini nessuno sarebbe non dico così sciocco perché si può anche partire da quel presupposto ma insomma se vedete una foto un giorno al centro del tavolo e un giorno sul lato destro del tavolo non dite è un'altra foto perché? perché per voi le informazioni sono equivalenti rispetto all'azione di certi gruppi quindi in questo caso se vi interessano le immagini le immagini le fotografie poste su un tavolo è probabile che diciate che per voi è interessante il gruppo delle traslazioni io penso che sappiate che sono una traslazione no? vuol dire prendere un oggetto e spostarlo senza ruotarlo all'interno di uno spazio per esempio un piano o uno spazio tridimensionale è importante questo per dire che se voi considerate una foto Phi e considerate la foto Phi composto G cioè la stessa foto trasformata con l'azione di un elemento del gruppo delle traslazioni beh per voi questi due oggetti sono equivalenti normalmente avete tutto il diritto di dire no per me non sono equivalenti però normalmente le persone si comportano così e bene allora notiamo che la scelta del gruppo G che ci dice quali sono le informazioni che per noi sono equivalenti no dipende dall'osservatore vi faccio questo esempio banale supponiamo che io voglia raccogliere conchiglie e alla fine mi ritrovo con queste due conchiglie e vi chiedo hanno la stessa forma beh probabilmente probabilmente dico direte sì hanno la stessa forma perché è lescito nel confrontare le conchiglie ruotarle e traslarle non è che dite due conchiglie hanno forma diversa perché una è diciamo si ottiene dall'altra facendo una rotazione e una traslazione sul tavolo se si corrispondono perfettamente facendo una rotazione e una traslazione probabilmente direte che le conchiglie hanno la stessa forma però se si passa dalle conchiglie alle lettere dell'alfabeto penso di dare nel giusto dicendo che voi non accetterete che questo oggetto venga ritenuto uguale come forma a questo il primo è una m il secondo è una w quindi in questo caso il gruppo che posso utilizzare per l'equivalenza non sarà più quello che contiene le rotazioni oltre che le traslazioni accetterò una rotazione questa è una m questa è ancora una m probabilmente accetterò anche una dilatazione e accetterò anche altre trasformazioni ma una rotazione probabilmente no quindi la scelta nel gruppo G è qualche cosa che è importante nella definizione dell'osservatore se cambiate il gruppo cambiate anche l'osservatore allora questo per quanto riguarda il concetto di gruppo quando io parlerò di operatori equivarianti nella prossima lezione dirò sono operatori che commutano con l'azione di un gruppo dopo parlerò dell'azione di gruppi dirò che cosa intendiamo per l'azione di un gruppo allora ho il dovere di chiedervi di nuovo se ci sono delle domande fino a questo momento perché ora devo parlare di topologia che probabilmente è il concetto che vi è meno noto forse di quelli di cui sto parlando funzione lo saprete tutti gruppo molti topologia forse no ci sono fino a questo punto delle domande per me è tutto chiaro però io ho seguito il suo corso algebra lineare a ingegneria informatica quindi forse non vale ecco lì eh sì non vale non vale c'è qualcun altro per che ha dal comunque ti ringrazio qualcun altro ha delle osservazioni per favore come favore personale se è tutto chiaro va benissimo il silenzio se però non vi è chiaro per qualunque motivo per favore fatemi delle domande chiedendo magari una riformulazione ci sono dunque delle domande sento sento silenzio e quindi quindi vuol dire che forse è chiaro per tutti forse allora topologia allora leggo la topologia dal greco topos che vuol dire luogo e logos vuol dire anche studio parola ma insomma in questa accezione topologia significa lo studio dei luoghi ed è una branca della geometria studia la proprietà delle figure a meno di trasformazioni diciamo continue o se volete anche se non è proprio così elastiche cioè è la geometria che si fa quando si suppone che gli oggetti siano di gomma e si possano deformare come vogliamo senza strappi sovrapposizioni o incollature qui c'è l'esempio classico che si fa quando ci si vuole divertire con la topologia che è quello in cui si trasforma supponendo di avere una tazza appunto fatta di gomma di gomma però non nel senso fisico del termine la gomma ha dei vincoli di trasformazione oltre certi limiti non si può comprimere distendere si rompe anche quella immaginate di avere una una materia che si può deformare come volete allora se la deformate secondo questo percorso vedete che si può trasformare una tazza in una ciambella o se volete chiamarlo un krapfen o come come preferite e in effetti i topologi che vengono un po' definiti come quei matematici che con una battuta che non sanno distinguere una tazza da una ciambella quando fanno colazione allora è una battuta fa sorridere però contiene qualche cosa di tremendamente importante che vorrei qui sottolineare e che rende la topologia veramente utile per parlare di intelligenza allora la topologia non si accorge della differenza fra una tazza e un krapfen uno potrebbe vedere questa cosa come un estremo limite che me ne faccio di una scienza che non riesce a vedere la differenza tra queste cose in realtà quando si parla di intelligenza una cosa importantissima è non vedere trascurare dimenticare ignorare voi sapete che insomma ci sono delle patologie del cervello che nascono proprio dalla incapacità di dimenticare di non vedere i dettagli che è una capacità una caratteristica estremamente dannosa nella manipolazione nello studio del reale certamente bisogna saper ricordare per poter lavorare su dei dati ma ricordare tutto è una cosa terribile è una cosa terribile la topologia ha questa virtù di non vedere molti aspetti naturalmente se arriviamo a questo limite dimentichiamo troppi aspetti ci sono delle variazioni della topologia si chiama topologia persistente che studia le variazioni a meno di certi limiti ed è comunque una cosa molto utile nell'analisi dei dati allora va bene questa è la topologia però se diamo questa definizione qua che al solito è disponibile su wikipedia e sconfiniamo nella diciamo interpretazione aspetti filosofici epistemologici invece qui stiamo parlando di matematica quindi non possiamo accontentarci di questo racconto che comunque è il senso di quello che vogliamo fare allora qui bisogna parlare del concetto di topologia in senso proprio preciso cos'è una topologia allora supponiamo di avere un insieme x e dopo farò un esempio quindi non vi preoccupate troppo questo insieme può essere un insieme di sedie può essere un insieme di punti dello spazio quello che vi pare supponiamo di avere una famiglia di sotto insiemi voi spero che sappiate cos'è un sotto insieme dell'insieme va bene avete x e prendete un sotto insieme scusate qui ecco un sotto insieme e va bene questo è un sotto insieme un altro sotto insieme un altro sotto insieme prendete una intera famiglia cioè un insieme di sotto insieme allora lo chiamate questo insieme di sotto insieme una topologia se avvengono queste tre cose intanto questa famiglia che avete preso contiene sia x che l'insieme vuoto l'insieme vuoto è l'insieme privo di elementi poi ogni unione di elementi di questa famiglia è un elemento della famiglia stessa poi ogni intersezione di un numero finito attenzione che qui c'è finito prima non c'era di elementi della famiglia è un elemento della famiglia se questo accade diciamo che gli insiemi appartenenti a questa famiglia si chiamano aperti della topologia quindi ripeto prendere una topologia vuol dire su un insieme x vuol dire scegliere alcuni sotto insiemi di x va bene e avere queste tre proprietà fra gli insiemi ci hai messo sia x che l'insieme vuoto più eventualmente altri insiemi se unisci degli insiemi della famiglia come vuoi li unisci fra loro qui chiaramente dovreste sapere cos'è l'unione di insiemi ottenete ancora un insieme della famiglia non uscite fuori dall'insieme e se intersecate un numero finito di questi insiemi ottenete ancora un insieme della famiglia allora vi faccio un esempio banale per far capire che la topologia può essere una cosa del tutto astratta va bene io posso prendere un insieme con tre lettere va bene la lettera la lettera b e la lettera c allora io posso prendere questa famiglia tau che è data da questi insiemi allora come insieme ci metto prima l'insieme vuoto poi ci metto l'insieme con tutti e tre gli elementi a b e c che sarebbe il nostro x poi ci metto l'insieme contenente soltanto a poi l'insieme contenente soltanto b poi l'insieme contenente soltanto c e poi ci metto l'insieme contenente a e b l'insieme contenente b e c l'insieme contenente a e c tau è una famiglia di sotto insiemi di x in realtà in questo esempio li ho presi tutti sotto insiemi di x e chiaramente se voi fate l'unione di alcuni di questi sotto insiemi ne prendete alcuni per esempio unisco a con c ottenete a c che è ancora dentro la famiglia se unite a e b e c ottenete a b c che è ancora dentro la famiglia e via di seguito ogni unione di elementi di tau è un elemento di tau e questo vale anche per l'intersezione se io interseco a b facciamo un altro colore a b e b c ottengo questo insieme che è ancora un elemento della famiglia bene allora questa famiglia di insiemi ha una topologia non è certamente l'unica perché per esempio passando all'altro estremo io potrei togliere tutti questi insiemi e anche questa sarebbe una topologia perché contiene sia l'insieme vuoto che è l'insieme a b c che è x se riunite questi due insiemi ottenete a b c quindi ancora un insieme della famiglia se l'intersecate ottenete l'insieme vuoto che è ancora un insieme della famiglia quindi valgono le tre proprietà anche questa è una topologia naturalmente sono i due casi estremali per questo insieme x prendere tutti i sottinsiemi e prenderne soltanto due l'insieme vuoto e tutto l'insieme ci sono poi i casi intermedi che sono i casi più interessanti mi scusi sì ma quindi dato un qualunque insieme e l'insieme potenza è sempre una topologia allora se tu vai a prendere l'insieme potenza intendi l'insieme di tutte le funzioni l'insieme delle parti esatto l'insieme di tutti i sottinsiemi compreso l'insieme vuoto e l'insieme stesso è sempre una topologia in senso banale ok ok non è molto interessante per le applicazioni e per la teoria ma l'insieme potenza è una topologia e tutti i sottinsiemi dell'insieme potenza sono topologie allora se vai a prendere i sottinsiemi dell'insieme potenza quelli chiaramente sono una topologia dell'insieme potenza non più di x cioè se io vado a prendere faccio un esempio se io vado a prendere non questo insieme qua vado a prendere l'insieme potenza di questo va bene cioè tutti i possibili sottinsiemi che sono dati ovviamente dall'insieme vuoto poi dal singoletto contenente aspetta vado a prendere qui scriviamolo scriviamolo per bene qui abbiamo questi due elementi l'insieme potenza è dato da tutti i sottinsiemi di se faccio l'insieme potenza di tau scriviamolo così se vado a prendere l'insieme potenza di tau questo che cos'è è l'insieme di tutti i possibili sottinsiemi di tau quindi ci sarà il singoletto contenente l'insieme vuoto poi questo ho scritto allora il singoletto contenente il sole insieme abc poi ci sarà l'insieme contenente sia l'insieme vuoto che l'insieme abc e poi ci sarà l'insieme vuoto questa chiaramente è una topologia sull'insieme tau non più su x perché gli elementi di p di tau non sono più sottinsiemi di x il singoletto contenente l'insieme vuoto mentre l'insieme vuoto è un sottinsieme di x il singoletto contenente l'insieme vuoto non è un sottinsieme di x ma qui si va insomma non è una cosa molto interessante dal punto di vista di questo modulo cioè è vero che p di tau è una topologia su tau non è una topologia su x e l'insieme in potenza di x però sarebbe una topologia su x p di x è una topologia è quella che ho scritto prima esatto quella che aveva scritto prima con tutti i sottinsiemi è una topologia su x e quindi i sottinsiemi dell'insieme in potenza di x sono topologie se io vado a prendere i sottinsiemi dell'insieme potenza di x sono alcuni di essi quelli che verificano le tre proprietà topologie su tau perché su tau e non su x se io vado io qui ho preso allora se tu vai a prendere l'insieme delle parti dell'insieme delle parti di x no non l'insieme delle parti l'insieme hai detto un sottinsieme allora dici la frase perché non ho capito quello cioè ad esempio tau che contiene l'insieme vuoto e x no non è un sottinsieme dell'insieme delle parti di x allora fammi capire se l'affermazione che sta facendo è questa perché non ho capito bene s prende un sottinsieme di p di x esatto questa è una topologia esatto esatto dipende da queste tre proprietà magari non sono verificate magari sì per esempio qui cancello un po' di cose perché non non c'entra più scusa cancello un po' di cose allora facciamo ah perché ad esempio se prendo un l'insieme composto dall'insieme vuoto da a e da b l'intersezione migera l'insieme vuoto che non è un elemento di ta di beh se ci mette l'insieme vuoto diventa cioè se andiamo a prendere ah sì se non ci mettono l'insieme vuoto invece questo migera l'insieme vuoto che non è un elemento giusto esatto questa non è questa non è una una topologia questa qui perché l'intersezione del singoletto dell'altro singoletto darebbe l'insieme vuoto ma dentro che non c'è nello ok ok se invece ci vai a mettere l'insieme vuoto quello che mancherebbe è l'unione perché ti troveresti facendo l'unione di a e b l'insieme a b che però non c'è ok ok e se invece metto a b diventa una topologia no perché a quel punto dovresti metterci anche a b c perché altrimenti non c'è tutto l'insieme ok giusto giusto ok ok ci sono ci sei quindi questa sarebbe una topologia ok un'altra topologia intermedia fra quella banale più grande di tutte e quella banale più piccola di tutte va bene ok va bene grazie mille prego ci sono altre domande allora andiamo avanti in termini informali a che serve una topologia qual è la connessione con quello che dicevo dicevo prima allora andiamo un attimo avanti parlare di questi aperti vuol dire parlare dei punti che stanno in un certo senso vicino a un certo punto se io prendo un x appartenente a un aperto che vuol dire semplicemente un insieme appartenente a quella famiglia ok allora dire x appartiene a u significa che mettiamo due punti y e x appartenenti a u significa che rispetto a quell'aperto x e y sono vicini il concetto di aperto in qualche senso non quantitativo ci racconta il fatto che i punti che stanno dentro quell'aperto sono fra loro vicini in un certo senso non quantitativo vediamo per esempio quello che succede quando si parla della topologia euclidea sul piano reale io qui ho preso due sotto insieme del piano reale sono questa questa figura gialla che è priva dei punti del bordo questi punti non ci sono nella figura gialla va bene non ci sono invece ci sono questi punti la figura gialla include anche la figura blu che è dentro la figura gialla va bene la pallina blu invece questi punti sono presenti qui sono presenti nell'altra figura qui c'è il bordo allora vediamo un po' quello che succede rispetto alle nostre definizioni supponiamo che noi andiamo a dire bene prendiamo il piano reale quello che normalmente si indica con R2 e andiamo a prendere il piano reale i sottinsiemi che hanno questa caratteristica quindi prendiamo una famiglia tau i cui elementi sono i sottinsiemi fatti così se io mi metto in un punto dell'insieme riesco sempre a trovare un disco nel senso usuale del termine che contiene il punto considerato come centro e sta tutto dentro il mio aperto rispetto a questa definizione l'insieme di sinistra viene aperto e l'insieme di destra viene non aperto perché prendiamo un punto qualunque qui nella zona gialla questo è il punto P va bene riesco a prendere una piccola palla disco che sta tutto nella zona gialla questo è vero per ogni punto della zona gialla voi potete anche spostarvi verso il bordo in questo caso prenderete una palla più piccola ma riuscite sempre a trovare una palla un disco centrato in quel punto che sta dentro la zona gialla quindi l'insieme a sinistra è un aperto quella a destra no perché se prendete un punto che sta esattamente sul bordo per quanto piccola prendiate la palla non riuscirete a stare completamente dentro quindi la famiglia e così ho definito un concetto di insieme no ho detto prendiamo gli insiemi che hanno la proprietà espressa a sinistra e escludiamo quelli che non ce l'hanno va bene questa è la mia famiglia tau si può provare anche se qui non lo faccio che tra questi insiemi c'è sicuramente l'insieme vuoto perché c'è l'insieme vuoto perché non può contenere nessun punto quindi non potete mai trovare un punto che si trova in questa situazione qui visto che non contiene nessun punto quindi l'insieme vuoto appartiene a tau ma anche tutto il piano appartiene a tau perché tutto il piano contiene sempre un disco centrato in ogni punto e si può provare che se avete degli insiemi appartenenti a questa famiglia tau anche la loro unione appartiene a tau e anche la loro intersezione finita appartiene a tau non lo facciamo ma è vero quindi questa è una topologia questa topologia viene chiamata topologia euclidea la topologia in cui gli aperti sono gli insiemi che hanno questa proprietà diciamo fra virgolette proprietà del disco interno ok questa non ce l'ha e quella a sinistra ce l'ha è chiara questa proprietà? avete domande? bene naturalmente è una topologia fra le infinite sì scusi quindi abbiamo stabilito che se gli insiemi soddisfano questa proprietà allora tau può essere considerato una topologia però sì sì infatti il contrario però non è verificato cioè se ha una topologia deve per forza contenere tutti insiemi aperti? allora attenzione quando io dico insieme aperto lo dico sempre in relazione non è una topologia per definizione un insieme aperto è un insieme appartenente alla topologia quindi se tu mi dai un aperto per definizione mi stai dicendo che sta in una topologia eh sì perché io avevo segnato così prima però poi qua abbiamo praticamente ridefinito il concetto di aperto per questo che era un attimo allora diciamo questo io ho usato il termine aperto in un modo che può essere ingannevole allora quello che ho detto è all'inizio è una definizione se hai una topologia tutti gli insiemi della topologia li chiami aperti poi ho detto facciamo un esempio ora costruisco una topologia particolare la costruisco nel piano prendendo sotto insiemi del piano e chiamo se vuoi insiemi pippo gli insiemi che hanno quella proprietà del disco va bene a quel punto hai definito una famiglia di insiemi ok possiamo chiamarla tau o se vogliamo tau segnato e ha le proprietà di una topologia ok dovremmo dimostrarlo però ha le proprietà di una topologia allora a quel punto quegli insiemi hanno diritto di essere chiamati aperti cioè ok sì 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 va bene pensavo che avessimo ridefinito il concetto di aperto invece no abbiamo soltanto dato il nome di aperto questo nuovo tipo di insiemi va bene grazie prof ho chiamati aperti prima in modo illegittimo perché non avevo ancora detto che era una topologia quando però è diventata una topologia chiaro a tutti che è una topologia a quel punto posso chiamarli aperti quando li propongo come insiemi no perché non so ancora che risulteranno effettivamente dotati delle proprietà che ho detto però alla fine sì alla fine saranno aperti rispetto a quella topologia è chiaro che un insieme che è aperto rispetto a una topologia non lo sarà rispetto a un'altra perché cambiano gli elementi che vado a considerare no gli insiemi che vado a considerare all'interno della famiglia Tau sì su un'altra cosa potrebbe spiegare perché l'insieme di destra non soddisfa le tre proprietà della slide precedente allora quello che succede allora attenzione attenzione il riscorso è questo ci sono due fasi la prima fase è quella in cui io monto su uno sgabello e dico vi presento un insieme Tau lì non devo dimostrare niente perché io dico Tau conterrà questi insiemi e perché lo decido io no sto dando un nome quindi non devo dimostrare che Tau deve contenere quegli insiemi dico che Tau viene definito come la famiglia di quegli insiemi e io ci ho messo gli insiemi di sinistra e basta quindi in questa fase non devo giustificare nulla perché ho detto semplicemente prendiamo questi insiemi la cosa che devo dimostrare è che quando io vado a prendere gli insiemi di sinistra va bene ho le proprietà 2 e 3 allora tu puoi chiedere legittimamente ma se avessi preso l'insieme di destra e tutti gli insiemi avrei avuto comunque le proprietà 2 e 3 esatto ecco però lì bisogna che tu mi chiarisca cosa intendi per prendere l'insieme di destra perché io ho detto cos'è un insieme prendo soltanto i non aperti oppure sia gli aperti che i non aperti prendo sia gli aperti che i non aperti cioè li prendo tutti sotto insieme esattamente allora se prendo tutti i sotto insiemi del piano ovviamente facendo unione gli insiemi di questo tipo otterrò comunque un insieme del piano e quindi varrà la 2 e se farò intersezione finita di insiemi otterrò sempre un sotto insieme del piano e quindi varrà anche la 3 quindi prendendo tutti i possibili sotto insieme del piano otterrò un'altra topologia che viene chiamata topologia discreta e se invece prendessi solo i non aperti allora a questo punto allora se prendessi soltanto i non aperti cioè quelli a destra intendo sì allora se prendessi una topologia un insieme la famiglia di insiemi non aperti non andrebbe bene perché immagina di fare questa cosa qua io prendo fra gli insiemi non aperti però si torna all'equivoco di prima non aperti intendo dire gli insiemi non pippo va bene gli insiemi fuori di tau ecco esatto va bene allora io vado a prendere questo quadrato va bene e ci metto e tolgo come faccio a dire che tolgo diciamo che che disegno col giallo i punti che non stanno dentro va bene ok va bene ora vado a prendere un altro insieme che se disegno sovrapposto non si capisce niente quindi lo faccio a destra quindi questo è il quadrato che ha un solo lato incluso va bene stiamo d'accordo sì sì ecco ora vado a prendere il quadrato quest'altro quadrato qua che dove tolgo questi tre lati qui ora vado a sovrapporre in modo tale che questo in modo tale che questo venga sovrapposto a questo scusate non sovrapposto spostano un pochino più a destra cioè dovrebbe essere messi così d'accordo quando tu vai a fare l'unione ottieni un insieme in cui manca tutto il bordo laterale cioè ottieni questo insieme qui e questo non è un insieme Pippo perché Pippo è definito come tutti gli insiemi tali che un bordo fosse presente giusto? sì sì perfetto quindi non sarebbe chiuso se prendo soltanto gli insiemi di destra in questa definizione non otterrei una topologia capito grazie mille bene ci sono altre domande? io volevo chiedere sì ma questa definizione dei dischetti o di aperto adesso questa definizione di dischetti vale solo per i piani non per un insieme qualsiasi perché non saprei come far valere la definizione di dischetti per lettere dell'alfabeto allora in realtà si può fare anche lì la cosa diventerà più chiara quando avrò introdotto sempre che ce la faccia perché sono andato un po' troppo lento il concetto di metrica allora si potrà parlare di dischi rispetto a un'altra metrica diciamo che conviene posporre questa domanda al momento in cui avrò detto cos'è una metrica ok seconda domanda l'insieme dei chiusi è una topologia? allora io non ho non ho parlato di chiusi però posso dire a tutti che un chiuso è il complementare di un aperto nell'insieme X allora quando tu vai a prendere l'insieme dei chiusi non ottieni una topologia perché è quello che succede che i complementari degli aperti lo si vede attraverso considerazioni insiemistiche hanno la proprietà di essere stabili cioè rimanere all'interno della famiglia rispetto alle intersezioni qualunque e le unioni finite mentre io nella proprietà che ho richiesto ho richiesto che ci fosse la chiusura cioè il rientrare dentro la famiglia per unioni qualunque e per intersezioni finite per i complementari di aperti queste due proprietà si scambiano cioè viene fuori che l'unione finite e le intersezioni eventualmente infinite mantengono l'appartenenza alla famiglia quindi l'unione dei chiusi cioè dei complementari degli aperti non è più una topologia però è chiaro che si passa da un concetto all'altro come estrema facilità se hai i complementari degli aperti puoi ricavare gli aperti se hai l'aperti puoi ricavare i complementari degli aperti tecnicamente però l'insieme di chiusi non è una topologia in generale allora va bene abbiamo visto questa topologia equidea insomma il concetto di topologia equidea allora se abbiamo il concetto di topologia possiamo definire il concetto di funzione continua supponiamo di avere due insiemi x e y e ciascuno dei quali sia dotato di una topologia sia cioè uno spazio topologico allora possiamo dire che una funzione f da x in y non si dice continua se vale questa proprietà la controimmagine rispetto alla funzione f di qualunque aperto prendiamo un aperto qui in y nel codominio la controimmagine cioè l'insieme dei punti che vengono portati dalle frecce che rappresentano f dentro u va bene è anch'essa un aperto se questa proprietà vale cioè la controimmagine di un qualunque aperto u in y è un aperto in x allora diciamo che la funzione è continua questa è una proprietà astratta che possiamo riformulare in questi termini più forse chiari ma molto più imprecisi dicendo che questo significa che se due punti sono vicini nel senso di appartenere a un aperto lo stesso aperto va bene cioè x primo è vicino x secondo allora le loro immagini sono vicine però questa non è una definizione matematica è un racconto e quindi diciamo serve per capire quello che stiamo facendo ma non per dare delle definizioni precise per noi una funzione continua è una funzione tale che la retroimmagine di ogni sotto insieme aperto di y rispetto alla topologia scritta in y è un sotto insieme aperto di x rispetto alla topologia definita in x ora facciamo due esempi in rosso una funzione continua in blu una funzione discontinua rispetto alla seconda proprietà quella raccontata è chiaro che non vale per la funzione blu la continuità perché tu puoi prendere due punti molto vicini questo e questo sono molto vicini ma i valori assunti in questi due punti sono molto lontani però questo non ci interessa molto perché non è una proprietà che abbiamo formalizzato quello che ci interessa è vedere che non vale la proprietà che la retroimmagine di ogni aperto sia un aperto per la funzione blu in effetti prendete se parliamo di topologia euclidea sia nel nel codominio r che nel dominio r va bene i reali e prendiamo come aperto di cui vogliamo fare la retroimmagine questo insieme U che è l'intervallo aperto che va da A a B magari se usa un altro colore è più chiaro da A a B stiamo parlando dell'intervallo aperto A a B questo è il nostro insieme U allora se questa funzione blu la chiamo F che cos'è F alla meno 1 di U è l'insieme dei punti X appartenente al dominio diciamo la retta reale supponendo che il dominio sia la retta reale tali che F di X appartiene a U questo si usa scrivere in termini formali allora quali sono i punti dove tali che la loro immagine appartenga a questo intervallo U beh sono esattamente questi punti perché vedete in questi punti la funzione ha un valore che appartiene a U e questi punti questi punti la funzione ha un valore che appartiene a U ora notate però che l'insieme che ho appena definito include questo punto qua cioè noi abbiamo qui un intervallo del tipo del tipo facciamo scusate ho saltato diciamo del tipo C D dove C è escluso vedete il punto aperto e D è incluso e poi c'è l'intervallo che parte da E escluso e poi va a più infinito e questo insieme che vedete espresso in azzurro non è un insieme aperto nella topologia o più idea di R perché abbiamo un punto del bordo questo punto qua se io mi metto in questo punto e prendo qualunque disco centrato in quel punto esco dall'insieme quindi anche rispetto alla definizione che ho dato in termini topologici cioè di aperti abbiamo che la nostra funzione blu è discontinua quindi abbiamo detto cos'è una funzione continua bene allora per venire al discorso delle funzioni delle topologie espresse parlando di dischi cioè dicendo prendo l'insieme tau che è fatto da tutti i sottoinsiemi di x per cui c'è quella proprietà del disco se io mi metto un punto qualunque c'è un disco sufficientemente piccolo che sta tutto dentro l'insieme per usare questa definizione in generale occorre sapere cos'è una metrica allora una metrica è una funzione di che associa a ciascuna coppia a b di punti di un insieme x un numero che viene indicato con di a b rispettando queste condizioni la funzione è sempre maggiore uguale di 0 si annulla soltanto se i due punti coincidono in quel caso e soltanto in quel caso è simmetrica noi diciamo che la distanza fra a e b è uguale alla distanza fra b e da a e vale la disuguaglianza triangolare cioè la distanza fra e b più la distanza fra b e c è sempre maggiore uguale della distanza fra e c voi riconoscerete tra queste proprietà quelle che attribuite alla distanza euclidea tra punti nel piano se prendete due punti nel piano e calcolate la distanza questo è un numero sempre maggiore uguale di 0 e si annulla se soltanto se i due punti coincidono inoltre la distanza fra e b è uguale a distanza fra b e da e vale la disuguaglianza triangolare se io prendo a b e c beh la somma di a b più b c è maggiore uguale della insomma la distanza fra e b più la distanza fra b e c è maggiore uguale alla distanza fra e c allora se si ha una funzione di questo tipo si può ripetere la costruzione che abbiamo fatto per dare una topologia al piano reale si può infatti dire bene prendiamo come aperti quando dico prendiamo come aperti intendo dire prendiamo gli insiemi che poi chiamerò aperti quando avrò dimostrato che la famiglia ha scelto davvero una topologia prendiamo come insiemi di questo tipo appartenente alla famiglia tau gli insiemi che hanno questa proprietà se si prende un qualunque punto p dell'insieme esiste un disco centrato nel punto e tutto contenuto in un come si è visto con la metrica quidea però attenzione qui il concetto di disco non è più il concetto di disco fatto rispetto alla metrica euclidea ma rispetto a una funzione di come ho definito prima che potrebbe benissimo essere diversa dalla metrica euclidea queste funzioni le chiamiamo distanze m o metriche e permettono di costruire come ho detto una topologia individuando degli insiemi che poi chiameremo aperti vi faccio degli esempi di metriche del piano reale beh un caso particolarmente semplice è questo io definisco questa funzione di che dice che la distanza fra due punti è uno se i due punti sono diversi e zero se i due punti sono uguali allora per esempio nel piano reale se io voglio prendere due punti questo punto e questo punto qua va bene che distanza hanno uno perché sono diversi e questi due punti uno perché sono diversi e questi due punti uno perché sono diversi anche se si avvicinano sempre di più in termini di distanza euclidea la loro distanza è sempre uno la distanza è zero soltanto se coincidono bene in questa metrica cosa vuol dire prendere una palla di raggio uno pensiamoci un attimo io prendo un punto cos'è una palla di raggio uno un disco di raggio uno vuol dire prendo un punto e tutti i punti che distano da quel punto meno del raggio prefissato per esempio se il mio raggio è 10 che cos'è il disco di centro p e il raggio 10 che posso indicare come b di p 10 beh è tutto il piano perché tutti i punti distano uno da quel punto al più se chiedo qual è il disco di raggio uno che cos'è di nuovo è tutto il piano perché i punti distano almeno al più uno se prendo il disco di raggio un mezzo centrato in p beh quel disco è semplicemente il punto p stesso senza nessun altro punto perché non c'è nessun altro punto che disti meno di uno dal punto p ecco come sono fatti i dischi in questo caso ma anche in questo caso io posso utilizzare la definizione che abbiamo visto prima per costruire una topologia in questo caso gli aperti risulteranno essere lo si vede facilmente tutti sottinsieme del piano reale questo è un esempio un altro esempio è dato dalla metrica che viene chiamata L infinito questa metrica può essere ben capito la questione quindi con questa metrica tutti i sottinsiemi sono aperti anche se contengono solo il punto stesso quindi il rischetto non deve contenere altri punti certamente tutti i sottinsiemi in questa topologia tutti i sottinsiemi del piano tutti completamente tutti sono aperti rispetto a una topologia che chiaramente non è quella euclidea è un'altra topologia è un altro concetto di vicinanza in cui vicino vuol dire solo coincidente e basta mentre nella topologia euclidea vicino ha una serie di gradualità nella metrica discreta vicino vuol dire soltanto coincidente diciamo no allora vuol dire dipende dall'aperto che prendi ma oltre una certa distanza puoi soltanto coincidere per essere vicino è semplicemente una topologia euclidea diversa da quella euclidea che serve ad altri scopi diversi da quelli per cui serve la topologia euclidea e dà origine a un altro concetto di continuità se noi prendiamo questa metrica discreta e la topologia che essa genera tutte le funzioni sono continue mentre sappiamo bene che se prendiamo la topologia euclidea come abbiamo visto nell'esempio precedente soltanto alcune funzioni sono continue voi direte ma che serve una topologia che rende tutte le funzioni continue in effetti non serve a molto un esempio un po' patologico più utili sono le altre distanze che sto per introdurre ci sono altre domande poi se non ce la faccio a finire vorrei dire che la prossima volta concluderò questi esempi perché sono un pochino in ritardo avete altre domande? no mi pare di no allora poi c'è questa metrica l infinito che viene definita così vuoi la distanza fra due punti del piano? diciamo il punto x1 y1 il punto x2 y2 fai così calcola la distanza euclidea fra le ascisse cioè il valore assoluto di x1 meno x2 la distanza fra le ordinate cioè il valore assoluto di y1 meno y2 prendi il massimo questa funzione si può dimostrare che verifica le tre proprietà e quindi è una metrica un'altra possibilità è quella di prendere quest'altra funzione che è ancora definita sul piano qui come si definisce la distanza fra il punto x1 e y1 nel piano e il punto x2 e y2 nel piano beh si fissa si prende il nostro valore pi e qui non ho detto ma deve essere un numero qui prendiamolo maggiore di 1 in realtà potremmo prendere anche maggiore di 0 diciamo maggiore di 1 e si va a considerare il valore assoluto di x1 meno x2 alla pi più il valore assoluto di y1 meno y2 alla pi fatta la somma si calcola la radice piesima che ho rappresentato con questo esponente alla 1 su pi anche questa funzione è una metrica se in questa definizione prendiamo più uguale a 2 cioè prendiamo la somma dei quadrati delle distanze euclidee sotto radice quadrata otteniamo semplicemente la metrica euclidea perché la formula che ho scritto quando qui ci mettiamo un 2 qui un 2 e qui un mezzo cioè facciamo la radice quadrata è semplicemente la distanza euclidea quindi questa formula che ho dato generalizza la distanza euclidea ad altri valori di pi quando si prende pi uguale a 1 si ottiene quella che si chiama la metrica del tassista allora vi dico alcune cose per far capire quello che sto dicendo vediamo il concetto di disco rispetto a queste tre metriche cominciamo dalla prima la metrica L infinito cosa vuol dire prendere un punto che dista nel piano da questo punto qui che ora marco vediamo se ci riesco marco questo punto qui e voglio i punti a distanza 1 rispetto cominciamo dalla metrica discreta se prendo la metrica discreta i punti a distanza 1 sono tutti i punti del piano tranne il punto stesso se prendo la seconda metrica cioè la metrica L infinito quali sono i punti a distanza 1 sono i punti per cui se prendi la distanza inascissa e la distanza inordinata bene il massimo di queste due distanze è 1 ed è chiaro che i punti che hanno distanza 1 dal punto verde sono questi qui se prendete questi punti il bordo di questo quadrato supponendo che sia il quadrato di lato 2 quindi se mi lato 1 quindi questo è 1 bene se io prendo un punto qualunque di questo quadrato la distanza dal centro p del quadrato è 1 perché perché la distanza fra le ascisse fra le ascisse è questa che è minore di 1 la distanza fra le ordinate di p e del nostro punto è questa che è esattamente 1 siccome devo prendere il massimo la distanza è 1 quindi se noi prendiamo la metrica l'infinito il disco di centro pi e di raggio 1 è questo questo è il disco di centro pi e raggio 1 per la distanza l'infinito vediamo quello che succede quando prendiamo la metrica lp beh qui vediamo quello che succede quando prendiamo pi uguale a 2 prendere il disco con pi uguale a 2 vuol dire prendere il disco euclideo cioè andare a prendere questo disco qui il classico disco che conosciamo questo se si prende lp con pi uguale a 2 se invece di prendere pi uguale a 2 si prende pi uguale a 3 si ottiene non voglio dimostrarlo certamente si ottiene quest'altra figura un po' più grande del disco euclideo che è il disco rispetto alla metrica lp con pi uguale a 3 e se diciamo facciamo tendere pi all'infinito questo disco tende a somigliare sempre di più al quadrato che rappresenta il disco rispetto alla metrica l'infinito se invece facciamo decrescere pi invece che farlo crescere e prendiamo pi uguale a 1 quello che succede è che otteniamo questo quadrato in questa posizione che è più piccolo di tutti gli altri dischi che abbiamo visto finora in effetti prendete cosa vuol dire la metrica euclidea con più uguale a 1 vuol dire che la distanza sarà x1 meno x2 più sarebbe alla prima no elevato alla p con più uguale a 1 più y1 meno y2 il tutto sotto radice unesima cioè a 1 su 1 quindi prendiamo questo valore allora vogliamo i punti in cui la somma della distanza fra le ascisse più la somma della distanza fra le ordinate fa 1 e sono esattamente questi punti qui se prendete per esempio questo punto la distanza in ascisse è 0 la distanza in ordinata è 1 se prendete questo punto la distanza in ascisse è 1 la distanza in ordinata è 0 sto sempre parlando rispetto al centro del nostro disco e questo vale anche per i punti questi punti intermedi anche loro hanno somma della distanza fra le ascisse più somma della distanza fra le ordinate è pari a 1 quindi vedete che cambiando la metrica lasciamo perdere la prima che non è interessante cambiando la metrica il concetto di disco cambia passa dall'essere il quadrato di lato 2 centrato nel punto e diventa sempre più piccolo passando attraverso il disco euclideo fino a diventare questo quadrato qui chiaramente per tutti questi concetti di disco c'è una topologia ma è una topologia diversa nella metrica del tassista vi devo dire soltanto perché si chiama metrica del tassista perché misura le distanze come fanno i tassisti dire che questi punti qui su questo lato hanno tutti la stessa distanza dal centro della palla significa dire che quello che conta è la somma fra queste due lunghezze questa e questa che è la stessa quando noi andiamo a prendere un altro punto qui si ottiene sempre la stessa distanza va bene ed è esattamente la distanza che siccome questa tassista si pensa normalmente a una città con le strade fra loro parallele ortogonali se avete da raggiungere tipo si pensa tendenzialmente a new york un posto a da un posto bi quello che conta è questa distanza qui o se volete questa esattamente equivalente che è la distanza che viene misurata dalla metrica lp quando p è uguale a 1 ecco perché si chiama metrica del tassista comunque ciascuna di queste metriche genera una topologia un altro concetto che dovete conoscere è il concetto di omeomorfismo omeomorfismo è il concetto che si attribuisce diciamo la parola che viene utilizzata per indicare una funzione che sia continua insieme alla sua inversa c'è una funzione bionivoca quindi per cui esiste l'inversa esiste f alla meno 1 e tale che sia la funzione f sia la funzione f alla meno 1 siano continue in questo caso diciamo che f è un omeomorfismo gli omeomorfismi qui vedete un esempio di omeomorfismo la funzione che associa a ogni punto di questa circonferenza il punto corrispondente nel quadrato che si ottiene disegnando la retta che passa per il centro della circonferenza per il punto sulla circonferenza e per il punto sul quadrato e associando al punto sulla circonferenza il punto sul quadrato la legge che porta a in b è una funzione bicontinua ed è appunto un omeomorfismo si dice che la circonferenza è omeomorfa al quadrato cioè sono due figure diverse ma nel piano reale rispetto alla topologia euclidea esiste un omeomorfismo che porta la prima figura nella seconda perché è importante il concetto di omeomorfismo perché il concetto di omeomorfismo rappresenta esattamente proprio esattamente no ma molto da vicino quello che vi dicevo all'inizio della lezione quando ho detto che possiamo trasformare una ciambella in una tazza esiste un omeomorfismo fra la ciambella e la tazza cioè possiamo far corrispondere ai punti della ciambella punti della tazza in modo tale che questa corrispondenza sia bionivoca e continua insieme all'inversa gli omeomorfismi sono importanti perché possono cambiare molto la forma degli oggetti però conservano il numero dei buchi quindi se a noi interessa per esempio in una classificazione di forma semplicemente il numero di buchi e quindi non siamo interessati a distinguere una ciambella da una tazza bene il concetto giusto è quello di omeomorfismo un omeomorfismo è una corrispondenza bionivoca che è continua insieme alla funzione inversa ho bisogno di chiedervi una cosa mi mancano pochi lucidi ditemi se posso concludere oppure siccome fra un minuto è scaduto il tempo se cioè se ho cinque minuti oppure no sì per me sì assolutamente c'è qualcuno che ha obiezioni in questo senso posso andare avanti cinque minuti per me sì prof certo se no lo faccio a presente allora interrompo riprendo la prossima volta quindi vabbè allora ok allora stavo dicendo bene quindi abbiamo definito il concetto di omeomorfismo che mi servirà per definire gli operatori più varianti non espansivi allora l'ultimo concetto che di cui voglio parlarvi è quello di azione di gruppi su insiemi supponiamo di avere un gruppo con la sua unità U e di avere un'operazione che dati un elemento dell'insieme e un elemento del gruppo produce un nuovo elemento dell'insieme secondo queste regole se voi agite con l'unità su un elemento dell'insieme e lo si scrive così X pallino U dove pallino rappresenta l'azione ottenete X cioè l'unità del gruppo agisce sugli punti dell'insieme lasciandoli fermi e inoltre se voi andate a agire con un elemento del gruppo su un elemento dell'insieme X con appunto l'elemento del gruppo G1 e poi andate avanti e agire anche con un elemento G2 bene il risultato che ottenete è lo stesso che otterreste componendo prima G1 con G2 e quindi ottenendo un nuovo elemento del gruppo e poi agendo con questo nuovo elemento su X è una sorta di associatività quando sono verificate queste due proprietà diciamo che il gruppo agisce a destra su X e vi faccio subito due esempi abbastanza semplici prendiamo ad esempio il piano reale e il gruppo G dei movimenti rigidi del piano sono quelli che non cambiano le distanze euclidee quindi posso traslare posso ruotare posso ribaltare il piano facendo una riflessione rispetto a una retta allora G agisce in un modo banale a destra su X in questo modo vuoi prendere un movimento rigido G e farlo agire su X cosa fai? semplicemente lo applichi nel senso classico a X per esempio hai una traslazione e vuoi far agire la traslazione su X bene trasla X secondo questa traslazione e si vede che questa azione verifica i due assiomi che abbiamo detto perché la traslazione unitaria che è la traslazione che non trasla la traslazione nulla lascia fermi tutti i punti e inoltre la composizione di due movimenti rigidi agisce su ogni punto come la composizione delle due trasformazioni delle due traslazioni ma si può fare qualche cosa di più interessante supponete di avere le funzioni da R in R avete una funzione da R in R e avete il gruppo delle traslazioni su R va bene potete traslare le funzioni allora potete definire una azione del gruppo delle traslazioni sulle funzioni in che modo agirà una traslazione su una funzione nel modo più banale la trasla nel senso che se voi volete agire con la traslazione G sulla funzione F per esempio sulla funzione seno volete agire con la traslazione di pi greco mezzi bene componete le due funzioni e otterrete se il senso è quello giusto la funzione coseno la funzione composta è il modo più semplice e più ovvio per definire l'azione del gruppo delle traslazioni della retta su ogni funzione definita sulla retta sembra un gioco di parole ma è la cosa più semplice da fare in generale questa non è una cosa che riguarda il piano riguarda la retta se voi avete uno spazio topologico topologico perché volete parlare di funzioni continue e di omimorfismi e avete un gruppo di omimorfismi per esempio non lo so le isometrie del piano che è uno spazio topologico cioè uno spazio dotato di topologia rispetto alla topologia euclidea potete definire facilmente un'azione a destra del gruppo su x come abbiamo fatto prima volete agire non più con una sola traslazione ma con una trasformazione più complicata per esempio con una rotazione o per chi conosca il significato di queste parole con un'affinità o con un'omotetia bene potete agire applicando quella trasformazione a ogni punto e lo stesso quando avete le funzioni potete utilizzare il gruppo non per agire sull'insieme ma per agire sulle funzioni attraverso questa composizione quindi il gruppo che agisce sull'insieme può agire in un altro modo anche sulle funzioni definite sull'insieme bene allora ho fatto una carrellata di concetti che ci serviranno nella prossima lezione per introdurre il concetto di operatore più variante in un espansivo e per parlare del suo uso nel machine learning naturalmente mi rendo conto che per alcuni i concetti saranno stati banali li conoscevo già non importava ripeterli per altri saranno concetti complessi perché una persona può benissimo non conoscere il concetto di gruppo io sono a vostra disposizione rimarrò a vostra disposizione un'altra decine di minuti se qualcuno ha delle domande anche se la lezione finisce ora vi consiglio questo libro come lettura una lettura ve l'ho già consegnata oggi e il mio consiglio è forte nel senso è una il libro di Oliver Sacks a cui ho fatto riferimento è veramente bello e serve a capire meglio il ruolo dell'osservatore soprattutto quando questo ruolo non è banale oggi vi consiglio questo libro visioni della simmetria quindi visioni connesse al concetto di gruppo gruppi che preservano certe strutture e fa riferimento ai dipinti di di Escher vi chiedo soltanto se qualcuno delle persone assente è arrivata nel senso che io attualmente ho due a fatemi vedere non riesco a usare naturalmente il mouse ora non so perché fatemi vedere dunque Filippo Scimento è poi arrivato direi di no Andrea Pari è poi arrivato anche lui no benissimo la lezione è finita vi ringrazio per la pazienza se qualcuno ha ulteriori domande ora oppure puoi farle insomma separatamente chiamandomi sono a disposizione buona serata io fai due domande sì la prima potrebbe carichere queste slide su virtuale gentilmente certamente certamente posso farlo e sì magari vi metto vi metto il pdf originale senza i miei disegnini perché non lo so se i miei disegnini sono utili penso che per voi sia meglio il pdf pulito perché in certi punti il lucido non è leggibile con le mie scritte so sì e la seconda domanda potrebbe spiegare perché nella metrica discreta ogni punto scusa ogni sotto insieme è un sotto insieme aperto perché se tu vai a prendere allora cos'è un aperto un aperto è un insieme che ha la proprietà che per ogni punto riesce a trovare un disco che sta dentro l'insieme va bene allora tu prendi un qualunque sotto insieme per esempio del piano reale ok e dammi un punto mi dai il punto p e io devo trovare un disco centrato in p che sta dentro l'insieme io ti dico l'ho trovato è il disco formato da soltanto quel punto è il disco di raggio un mezzo io prendo il disco di raggio un mezzo centrato in quel punto che cos'è il disco di raggio un mezzo è l'insieme contenente soltanto quel punto perché è l'unico punto che a distanza un mezzo cioè mi fai io a un mezzo sì è il punto stesso capito invece se fosse già il disco di raggio 1 sarebbe fuori se prendessi il disco di raggio 1 andrebbe anche fuori ma il disco lo scelgo io io devo essere capace di scegliere un disco così piccolo di raggio così piccolo che sta tutto dentro e vinco sempre perché prendo il punto da solo capito c'è qualcun altro che ha domande io ho un disco che sono un attimo perso quando alla fine ha combinato la topologia con gli imporsi sono due concetti che non ho ancora ben chiarissimi quindi sono andato un attimo in difficoltà negli ultimi minuti proprio sì allora quando ho combinato aiutami a capire la topologia con la metrica oppure quando ho combinato con gli omorfismi cioè aspetta torno indietro così magari mi dici qual è il lucido io scorro e te magari mi blocchi quando vedi qualcosa che ti azioni di gruppi su insieme ecco azioni di gruppi su insieme allora mi puoi specificare la domanda o vuoi che ti ridica quello che ho detto in questi lucidi vuoi che ti ripeta a quello che ho detto in generale o hai una domanda specifica ma è un rifasso generico non c'è proprio una domanda specifica ok allora il discorso è questo ci sono diversi modi per usare i gruppi un modo è quello di prendere il gruppo e fare operazioni fra gli elementi del gruppo no ci sono questi elementi del gruppo che si incontrano interagiscono e danno altri elementi del gruppo questo è un modo ma c'è un altro modo altrettanto interessante che è quello in cui questi elementi non agiscono combinandosi con altri elementi del gruppo ma agiscono operando su elementi di un insieme esterno faccio un esempio che è poi quello che dicevo prima prendiamo il piano va bene allora anzi la retta reale ok io posso dire prendi le traslazioni della retta ti chiedo posso comporre due traslazioni e tu mi rispondi certamente le posso comporre se traslo verso destra di uno e poi traslo verso destra di cinque è come se traslarsi verso destra di sei no si possono comporre le traslazioni e c'è una struttura di gruppo ogni traslazione ha la sua inversa c'è l'unità no quindi è un gruppo vedendo le traslazioni in questo modo io vedo guardo il modo con cui interagiscono fra loro le traslazioni e non parlo minimamente di insiemi della retta parlo soltanto del modo con cui le traslazioni interagiscono fra di loro però posso considerare anche l'azione delle traslazioni sugli elementi della retta e posso dire cosa succede se io applico la traslazione di uno al punto sette e tu mi dici beh ottieni il punto otto in questo caso io uso gli elementi del gruppo in un modo diverso non per interagire fra loro ma per agire sugli elementi di un insieme esterno si chiama azione di un gruppo naturalmente perché si possa parlare di azione di un gruppo devo verificare alcune proprietà che sono queste due devo avere che fra gli elementi del gruppo l'unità agisce sull'insieme in modo banale per le traslazioni è vero perché se io ti dico prendiamo la traslazione nulla la traslazione che non trasla va bene lascia tutto fermo se io ti chiedo qual è l'immagine della traslazione nulla di un punto x tu mi rispondi è x stesso il punto sette viene mandato nel punto sette dalla traslazione nulla e questo vale per ogni punto della retta quindi vale la proprietà uno questa proprietà qui è la uno ma vale anche l'altra proprietà se io prendo un punto della retta e la traslo a questo punto lo traslo di una quantità a cioè traslo mediante quella che potrei indicare con tau con a la traslazione facciamo t con a poi tau l'ho usato per indicare le topologie diciamo che prendo la traslazione di a va bene e questa la combino con la traslazione di b della quantità b bene come agisce la traslazione composta su ogni elemento x agisce come agiscono in sequenza le due traslazioni cioè se io traslo con la traslazione composta t con b e t con a quello che ottengo è la traslazione associata ad a più b e questa è esattamente la proprietà che vedi scritta in modo più complesso qui quando queste due proprietà valgono si dice che il gruppo agisce mediante diciamo agisce a destra sull'insieme x penso adesso mi è chiaro nel senso adesso mi è chiaro però il gruppo che non agisca cioè in cui queste proprietà non sono verificate un gruppo che non agisca allora tu sai che in matematica si danno le definizioni non le non definizioni no allora azione di gruppo si ha quando sono verificate queste proprietà se prendi un gruppo e non specifichi nessun modo con cui questo gruppo agisca su un certo insieme vuol dire che non hai un'azione di gruppo no magari potresti inventarla magari potresti definirla ma finché non l'hai definita non puoi dire che il gruppo agisce su un certo insieme diciamo che la cosa va vista così è lecito dire che un gruppo agisce su un insieme quando hai una operazione come questa che associa ad ogni coppia x g un nuovo elemento x composto g che verifica mediante una operazione che verifica queste due proprietà comunque il fine di tutto questo ciò che devi tenere presente per poter capire quello che spiegherò la prossima volta è questo esempio qui questo esempio qui quando arrivano dei dati molto spesso questi dati vengono trasformati da delle situazioni ambientali proprio come si fa quando si prende una fotografia e si sposta dal tavolo per far posto per un libro chiaramente l'oggetto è cambiato se io prendo una telecamera e ti faccio vedere questa scena tu vedi prima l'immagine in una posizione poi l'immagine in un'altra posizione e io ti chiedo ma sono lo stesso dato o sono due dati diversi dipende perché se tu hai fatto questa cosa qui per esempio hai detto aspetta io ho fatto l'esempio prima della 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 M perché mi sembrava particolarmente significativo se tu prendi la lettera M e la ruoti e la fai diventare questo qualcuno potrebbe dire il dato non è più quello di prima è cambiato ok oppure in questo caso il gruppo non è autorizzato il gruppo delle rotazioni non è autorizzato a agire sui nostri dati perché li cambierebbe trasformandone in significato il senso e l'utilità però se io prendo il gruppo delle traslazioni per le foto beh è accettabile che questo gruppo mantenga il significato dei segnali e che quindi si possa dire che il gruppo delle traslazioni agisce su l'insieme delle immagini portando ogni immagine in un'altra immagine che verrà però considerata equivalente sostanzialmente il fatto che un gruppo agisca su un insieme nel nostro contesto diventerà il gruppo degli omeomorfismi agisce sull'insieme dei segnali trasformando segnali leciti in segnali leciti nell'esempio delle immagini il gruppo delle traslazioni trasforma le fotografie lecite in fotografie lecite quindi agisce sull'insieme delle fotografie ci sono dei modi che sarebbero illeciti se io prendessi questa fotografia la facessi a pezzetti va bene e poi spaggressi pezzetti sul tavolo non sarei più autorizzato a dire che la mia trasformazione ha portato un'immagine lecita in un'immagine lecita quindi quella trasformazione non è più una trasformazione che agisce sullo spazio dei segnali ammissibili questo è il senso di quello che ho spiegato oggi per quanto riguarda le azioni di gruppo e gli omeomorfismi non so se è chiaro oppure se non è chiaro rifare perfetti l'immagine sarebbe il distruggere è un gruppo il distruggere un'immagine o no tu potresti parlarne facciamo facciamo un esempio facciamo un esempio prendi le funzioni periodiche sulla retta reale il seno va bene il coseno va bene seno più coseno va bene 2 seno più 4 coseno di 3x va bene no sono tutte funzioni periodiche ok ora io prendo il gruppo delle permutazioni dei punti della retta reale cosa vuol dire vuol dire che posso prendere tutte le corrispondenze bionivoche della retta in sé quindi io posso prendere tutti i punti della retta e rimescolarli fra loro come voglio senza nessuna richiesta di continuità ok non so se è chiaro prendo la retta la spezzo in tanti punti divisi fra loro e rimescolo i punti ok oppure no sì 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 adesso ho capito questo è un gruppo questo è un gruppo ora io prendo il seno una funzione periodica una funzione che per me è amissibile e la compongo con questa permutazione ti viene uno schifo una funzione che salta dappertutto che non è periodica non so se è chiaro sì sì a meno che i pezzetti non siano di grandezza del periodo sì certo ma se prendo tutte le corrispondenze bionivoche prendo anche le corrispondenze bionivoche cattive quelle che che non rispettano questa proprietà di cui sta parlando allora cosa succede succede che questo gruppo non agisce secondo composizione sullo spazio dei miei segnali perché prende il seno che sta dentro lo spazio dei segnali ammissibili e lo porta fuori trasformandolo in una funzione non periodica allora non potrò dire che il mio gruppo agisce sul mio insieme phi di segnali ammissibili questa è la cosa che mi interessa poi naturalmente c'è la definizione matematica da lì si può partire per fare altre cose non un corso che riguardi insomma gli operatori equivarianti non espansivi se non ho risposto riformula la domanda tanto non stiamo costrangendo nessuno a stare qui mi sembra che mi stanno chiarendi i concetti ecco il concetto di base è questo nella percezione di un osservatore esistono segnali che hanno senso segnali che sono ammissibili no? immagini non tutto quello che si vede è un'immagine che ha senso se io ti chiedessi di farmi un disegno è molto difficile pensare producendolo con gli strumenti che hai non credo che produrresti mai il rumore bianco di un televisore che non sta ricevendo un segnale è più facile che tu disegni una lettera una casa un rettangolo tutto blu ma non rumore bianco non siamo fatti e le azioni sono quelle quelle operazioni che fanno mantenere il senso anche dopo la trasformazione dopo essere allora azione in senso matematico è quello che ho detto cioè si tratta di una operazione che verifica le proprietà 1 e 2 nel nostro contesto un'azione di un gruppo sullo spazio dei segnali sarà una trasformazione che porta attraverso quegli elementi del gruppo per esempio uno potrà dire traslo delle immagini o ruoto delle immagini o faccio delle altre cose equivalenti sui segnali trasformazioni che hanno la proprietà di portare questi segnali che stanno nell'insieme dei segnali accettabili in altri segnali di questo tipo e il motivo sarà ovvio perché se l'osservatore riceve un dato che ha un senso per chi guarda quello che sta facendo e restituisce un messaggio un dato che non ha nessun senso per gli altri che stanno osservando tutto questo è completamente inutile dal punto di vista dell'analizzazione di procedure che risolvano dei problemi o permettano di comprendere meglio il reale cioè vogliamo che tutto rimanga entro confini di senso questo dal punto di vista epistemologico però il linguaggio matematico è questo altre domande osservazioni direi mi sembra di no permettetemi di darvi la buonanotte di dirvi soltanto questo però ci sono delle cose che dico alcune cose che hanno valenza tecnica e delle cose che hanno una valenza semantica fermo restando che dovete cercare di apprendere anche le prime però il messaggio veramente importante è il secondo finora finora quello che ho detto essenzialmente è che per affrontare il tema dell'intelligenza bisogna affrontare il tema della rappresentazione dei dati e degli osservatori e per affrontare questa tematica bisogna avere un minimo di conoscenza di parole e concetti come quelli di funzione gruppo azione di gruppo topologia metrica che è un homomorphismo che vedremo nella prossima lezione e tutto questo sta nella cornice del diciamo considerare lo studio dei segnali che hanno un senso se questo insomma a chi è capitato di seguire qualche mio corso questa cosa l'ha sentita diciamo fino alla noia qualunque cosa siamo in quanto esseri umani non siamo entità che riescono a procedere in modo casuale non siamo capaci di farlo abbiamo delle direzioni dei framework comportamentali e se volete mettere in difficoltà una persona chiedeteli di fare qualche cosa a caso non riuscirà mai a farlo non è possibile farlo se riesce a farlo è molto pericoloso e quindi è sperabile che non lo faccia ma se anche decidesse di farlo non sarà mai in grado di farlo provate a fare questo gioco a far chiudere gli occhi a un vostro interlocutore e a chiedergli di dire per un minuto di fila delle parole a caso comincerà a dire i nomi degli oggetti che si immagina dintorno che ha visto dintorno tavolo sedia muro quando avrà finito questa lista comincerà a rallentare e comincerà a aver difficoltà perché non siamo capaci di procedere casualmente abbiamo bisogno di relazioni di legami di link con la realtà comunque va bene siamo oltre il limite io vi saluto ci vediamo martedì prossimo per parlare di genio buonanotte a tutti arrivederci buonanotte arrivederci buonasera arrivederci 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 buonanotte a tutti Grazie a tutti